Ciao a tutti, sono Filippo, sono senza altro problema di tutti. Allora, voglio dirvi che avevo capito che sui giornali mi avevo detto che c'è il coronavirus, noi dobbiamo essere forti, noi dobbiamo combattere, essere forti, coraggiosi, dovete lavare le mani, non dovete bacino, non dovete abbracciarmi, non dovete dare il cinque, non dovete anche lavare le mani spesso, dovete mangiare cose sane, perché noi, dentro il nostro cuore, noi siamo per combattere contro questo virus, noi siamo forti, mica dei mozzosi, noi dobbiamo essere fortissimi, perché noi combatteremo contro quel virus, perché noi dobbiamo essere molto forti, coraggiosi, molto bravi, perché io sono il dottore più bravo di tutti, e noi dobbiamo combattere con quel virus, dobbiamo salvare la gente, noi dobbiamo salvare questa gente, e noi dobbiamo combattere con il nostro cuore, perché noi saremo sempre bravissimi, capito? Eh, questo vuol dire che, visto che dovete lavare le mani, non dovete dare i bacini, non dovete abbracciarmi, non dovete dare il cinque, voi dovete essere forti, dovete capirlo, perché voi sono stati cancellati, non possiamo andare in viaggio, non possiamo andare su un anico, non possiamo andare su un aereo, noi non possiamo andare da una sola parte, che facciamo ora? Noi dobbiamo combattere contro di noi, noi siamo forti, noi siamo forti, siamo sempre forti, noi, dentro nostro cuore, siamo sempre più forti, e grazie.